Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Misteri dolorosi. Cammineremo insieme a te, verso la libertà. Quando qualcuno ti dice, nulla mai cambierà. Lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità. Vieni, oh madre, in mezzo a noi, vieni, Maria, qua giù. Cammineremo insieme a te, verso la libertà. Lungo la strada la gente, chiusa in sé stessa, va. Offri per primo la mano, a che vicino a te. Vieni, oh madre, in mezzo a noi, vieni, Maria, qua giù. Cammineremo insieme a te, verso la libertà. Quando ti senti ormai stanco, e sembra inutile andare. Tu vai tracciando un cammino, un altro ti seguirà. Vieni, oh madre, in mezzo a noi, vieni, Maria, qua giù. Cammineremo insieme a te, verso la libertà. Cara e dolce mamma, accetta questa nostra umile corona che ti offriamo, secondo le tue intenzioni, e in riparazione di tutti i peccati che si commettono nella chiesa fondata da tuo figlio Gesù. Fa, oh mamma, che tutto il mondo ritorni al tuo rosario ricca fonte di grazie. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Oh Gesù, perdona le nostre colpe, preservarci dal fuoco dell'inferno, portencelo a tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore Dio, che per mezzo dello Spirito Santo, diffondete il vostro santo amore sulle chiesa, abbreviateci il dolore del purgatorio, e rendeteci sempre più degni della vista del paradiso. Mater dolorosa, ora pro nobis. Primo mistero doloroso, Gesù prega il suo sangue nell'orto degli olivi. Mistero cantato, Gesù si ritira nell'orto a pregare, tristezza ed angoscia comincia a provare. Ave, ave, ave Maria, ave, ave Maria. Gesù andò come al solito al Monte degli Olivi, seguito dai suoi discepoli, e come fu giunto disse loro, pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro quanto un chilo di sasso, e il ginocchiato si pregava dicendo, Padre, se vuoi, allontanate da me questo calice, però non la mia volontà sia fatta, ma la tua. Ed entrato in agonia, pregava più intensamente. Il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimette a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indura in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, bendita il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, bendita il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen Ave Maria piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen Ave Maria piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e vedete il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e vedete il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Come era nei principi ed ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia Signore Dio, che per mezzo dello Spirito Santo Diffondete il vostro santo amore sulla Chiesa Abbreviateci il dolore del Purgatorio E rendeteci sempre più degni della vista del Paradiso Mater Dolorosa, Ora Pronobis Secondo mistero doloroso Gesù è flagellato e insultato Mistero cantato E poi flagellato con gran crudeltà Per il Salvatore nessuna pietà Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Pilato disse a Gesù Dunque, tu sei re? Rispose Gesù Tu lo dici, io sono re Per questo sono nato e sono venuto al mondo Per rendere testimonianza alla verità Gli dice Pilato Che cos'è la verità? E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro Io non trovo in lui nessuna colpa Vi è tra voi l'usanza che ho liberi uno per la festa di Pasqua Volete dunque che ho liberi re dei giudei? Allora essi gridarono di nuovo Non costui ma Barabba Barabba era un brigante Allora Pilato fece prendere Gesù E lo fece flagellare Padre nostro Che sei nei cieli Si è santificato il tuo nome Venga il tuo regno Si è fatta la tua volontà Come in cielo o così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano Che rimetti a noi i nostri debiti Come noi li rimettiamo ai nostri debitori Che non ci indurre in tentazione Ma liberaci dal male Amen Ave Maria piena di grazie Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazie Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazie Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Ave Maria piena di grazie il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Ave Maria piena di grazie il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Ave Maria piena di grazie il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Ave Maria piena di grazie il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazie del Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Gloria, Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era nei principi e ad ora e sempre nei secoli dei secoli, Amen O Gesù, perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia Signore Dio, che per mezzo dello Spirito Santo diffondete il vostro santo amore sulla Chiesa abbreviateci l'ora del Purgatorio e rendeteci sempre più degni della vista del Paradiso Mater Dolorosa Ora Pronobis Terzo mistero doloroso Gesù è coronato di spine e condannato a morte Mistero cantato Ci volge lo sguardo tra pene e dolor il capo trafitto di spine al Signor Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria I soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno a tutta la corte Spogliatolo, rimiso addosso a un manto scarlatto e intrecciato a una corona di spine gliela posto sul capo con una canna nella destra Poi mentre gli singenocchiavano davanti lo schermiglio Salve il re dei giudei e smutandoli addosso ritolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo Dopo averlo così schermito lo spogliarono del mantello gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo Padre nostro occhio e senicelli sia santificato il tuo nome venga al tuo regno sia fatta la tua volontà come un cielo così interna Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indura in tentazione ma liberaci dal male Amen Ave Maria piena di grazie Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e vedete il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazie Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e vedete il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazie grazie Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e vedete il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e vedete il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e vedete il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e vedete il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nei principi ed ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservarci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore Dio, che per mezzo dello Spirito Santo diffondete il vostro santo amore sulla Chiesa, abbreviateci il dolore del purgatorio e rendeteci sempre più degni della vista del Paradiso. Mater dolorosa, ora pronobis. Quarto mistero doloroso, Gesù sale il Calvario portando la croce. Mistero cantato. Seguiamo il Signore che al Golgotha va, per noi la sua croce salvezza sarà. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Mentre lo conducevano via al Calvario, presero un certo Simone di Cireni, che veniva dalla campagna e li misero addosso alla croce da portare dietro Gesù. Lo seguiva una gran folla di popoli e di donne che si battevano il petto e facevano la mente su di lui. Ma Gesù voltatosi verso le donne e disse, figli di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stessi e sui vostri figli. Perché se trattano così il legno verde, chi avverrà del legno secco, Padre nostro. Perché sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indura in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, pieni di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, pieni di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, pieni di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, pieni di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, pieni di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, pieni di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, pieni di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, pieni di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, pieni di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, pieni di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Gloria, Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nei principi ed ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, Cristo. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Signore Dio, che per mezzo dello Spirito Santo diffondete il vostro santo amore sulla Chiesa. Abbreviateci il dolore del purgatorio e rendeteci sempre più degni della vista del Paradiso. Mater dolorosa, ora pronobis. Quinto mistero doloroso. Gesù viene crocifisso, e muore sulla croce. Mistero cantato. Il gran sacrificio si compie d'amor, sul Golgotha muore Gesù, Gesù Redentor. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Gesù portando la croce si avviò verso il luogo del cranio detto in ebraico Golgotha, dove lo crocifissero. E con lui altri due, uno della parte e uno dell'altra, e Gesù nel mezzo. Stavano presto la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre, e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre, donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo, ecco la tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Padre nostro, che se ne scegli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come un cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurra in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria piena di grazie, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen ave maria piena di grazie signore con te tu sei benedetta fra donne e vedete il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen ave maria piena di grazie signore con te tu sei benedetta fra donne e vedete il frutto del tuo seno gesù santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, come era nei principi, ad ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservarci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore Dio, che per mezzo dello Spirito Santo diffondete il vostro sant'amore sulla Chiesa, abbreviateci dell'ordine purgatorio e rendeteci sempre più degni della vista del Paradiso. Mater dolorosa, ora a pronobis. Mater dolorosa, ora a pronobis. Mater dolorosa, ora a pronobis. O Maria, Madre dei dolori, prega per noi il tuo Gesù. E allora che pia la squilla fedel, le note cingia dell'ave del cielo. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Nel piano di Dio, l'eletta sei tu. L'eletta sei tu che porti nel mondo il figlio Gesù. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Salve Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo noi sugli figli di Eva. A te sospettiamo gemente e pengenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo quest'esilio il frutto benedetto del seno tuo Gesù. Oclamente, o pia, o dolce vergine Maria. Signore e pietà. 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 Cristo, ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre celeste che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio radentore del mondo, che sei Dio. Abbi pietà di noi Spirito Santo che sei Dio Abbi pietà di noi Santa Trinità unico Dio Abbi pietà di noi O Maria maestra di umiltà O Maria sei madre di bontà Sei la madre di Dio e dell'umanità Tu sai con lei che ha detto sì Sei la madre di Dio e dell'umanità Tu sai con lei che ha detto sì Santa Maria prega per noi Santa madre di Dio prega per noi Santa Vergine delle Vergini prega per noi Madre di Cristo prega per noi Madre della Grazia Divina prega per noi Madre Purissima prega per noi Madre Castissima prega per noi Madre Sempre Vergine prega per noi Madre Senza Colpa prega per noi Madre Amabile prega per noi Madre Ammirabile prega per noi Madre del Buon Consiglio prega per noi Madre del Creatore prega per noi Madre del Salvatore prega per noi Madre della Chiesa prega per noi Vergine Prudentissima prega per noi Vergine degna di ogni lode prega per noi Vergine potente prega per noi Vergine Clamente prega per noi Vergine fedele prega per noi Modello di Santità prega per noi Sede della Sapienza prega per noi Causa della nostra gioia prega per noi Tempio dello Spirito Santo prega per noi Tempio di Gloria prega per noi Modello della vera pietà prega per noi Capolavoro di Carità prega per noi Rosa mistica prega per noi Gloria della stirpe di Davide prega per noi Splendore di Grazia prega per noi Arca dell'Alleanza prega per noi Porta del Cielo prega per noi Stella del Mattino prega per noi Salute degli infermi prega per noi Rifugio dei Peccatori prega per noi Consolatrice degli affritti prega per noi Consolatrice degli affritti prega per noi Aiuto dei cristiani prega per noi Regina degli angeli prega per noi Regina dei patriarchi prega per noi Regina dei profeti prega per noi Regina degli apostoli prega per noi Regina degli apostoli prega per noi Regina dei confessori della fede prega per noi Regina delle vergini prega per noi Regina di tutti i santi prega per noi Regina concepita senza peccato prega per noi Regina assunta in cielo prega per noi Regina del Santo Rosario prega per noi Regina delle famiglie prega per noi Regina della pace prega per noi Nostra Signora dell'Urdi prega per noi Nostra Signora di Fatima prega per noi Madonna addolorata prega per noi Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Perdonaci o Signore Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Ascoltaci o Signore Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Abbi pietà di noi Prega per noi Santa Madre di Dio E saremo degni delle promesse di Cristo Preghiamo O Dio che nella verginità feconda di Maria Hai dato agli uomini i pezzi della salvezza eterna Fa che sperimentiamo la sua intercessione Poiché per mezzo di lei Abbiamo ricevuto l'autorità della vita Gesù Cristo tuo figlio e nostro Signore Amen O Maria maestra di umiltà O Maria sei madre di bontà Sei la madre di Dio e dell'umanità Tu sei con lei che ha detto sì Sei la madre di Dio e dell'umanità Tu sei con lei che ha detto sì In riparazione di tutti i peccati che si commettono nella Chiesa affrontata da Gesù In riparazione per tutti i sacrileggi alla Santissima Eucaristia In riparazione per tutti gli oltraggi alla Santa Messa Alla parola di Dio Ai comandamenti e ai sacramenti Padre nostro che sei nei cieli Sei santificato il tuo nome Venga il tuo regno Sia fatta la tua volontà Come in cielo così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti Come noi li rimettiamo ai nostri debitori E non ci indura in tentazione Ma liberaci dal male Amen Ave Maria piena di grazie Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetta è frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Come eri in principio e sempre Nei secoli dei secoli Amen Per la Chiesa Cattolica sparsa nel mondo Ave Maria piena di grazie Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetta è frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Per le vocazioni sacerdotali E per la santificazione dei sacerdoti E dei religiosi Ave Maria piena di grazie Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetta è frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Per la conversione dei peccatori E lo scioglimento dei cuori più induriti Ave Maria piena di grazie Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetta è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Per la salute degli ammalati Specialmente di coloro che si raccomandano Alle nostre preghiere Ave Maria piena di grazie Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetta è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Per la pace nei nostri cuori Nelle nostre famiglie Nel mondo intero Ave Maria piena di grazie Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetta è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Per tutti i bambini del mondo Soprattutto per quelli che sono ammalati Abbandonati e sfruttati E marginati Violentati E trapiti E venduti Ave Maria piena di grazie Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetta è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Per il riposo delle anime del purgatorio Per tutte le anime abbandonate E per tutte le anime a noi cari Ave Maria piena di grazie Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetta è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Donato Delpiotoso a tutte le anime fedeli Defunti in cielo L'Eterno riposo L'Eterno riposo Dona loro Signore E splendida ad essi la luce perpetua Riposen in pace Amen L'eterno riposo dono loro, Signore, e sprende ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dono loro, Signore, e sprende ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Salve Regina, salve Regina, prega per noi, oh Maria. Salve Regina, salve Regina, prega per noi, oh Maria. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria? Ed è la concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazie, Signore, è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco la serva del Signore. Si incompi in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazie, Signore, è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E il verbo si fece carne. E venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazie, Signore, è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo in fondo, Signore, nostra anima e tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo tuo figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come eri in principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come eri in principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come eri in principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regli e governa me, e ti puoi affidato dalla pietà celeste. Amen. L'anima mia magnifica è il Signore, che il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Grandi cosi ha fatto in me l'Onnipotente, che santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele e il suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio ed ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di consagrazione al cuore immacolato di Maria. O Maria, Regina dell'Universo, Regina del Santo Rosario, Immacolata Madre di Dio e dalla Chiesa, consagriamo a te i nostri corpi, le anime nostre, i pensieri, i desideri, le speranze, i progetti, le parole e le azioni. Siamo tuo figlio, Maria, e nulla deve essere in noi che ti possa dispiacere. Nessun affetto deve esistere nei nostri cuori che non ti armonizzi verso di te e verso il tuo figlio divino. Fa, o Vergine, che la nostra anima sia ricca dei frutti del tuo rosario. Umiltà profonda, ardente carità, libertà da ogni attaccamento peccaminoso alle cose caduche, purezza di sentimenti, adesione costante alla persona e alla parola di Gesù. Darci lacrime sincere per piangere con Gesù nel gettissemani i nostri peccati. Spirito di mortificazione per unirci alle sofferenze di Gesù, flagellato e coronato di spine. Sentimenti di fraterna bontà per aiutare chi porta la croce. Coraggio per stenderci sulla croce quando più dura si fa la prova. O Madre della Divina Grazia, facci vivere nella grazia di Gesù risorto. O Madre della Santa Speranza, fa che l'aspirazione alle celeste realtà sostenga la nostra vita terrena anche nei momenti più bui. O Madre dell'Eterno Amore, fa che non ci estingua mai nella nostra anima il fuoco dello Spirito Santo. O Regine del Cielo, nell'ora della nostra morte, ammetteci alla tua corte con gli angeli santi e mostraci il frutto del tuo Seno Gesù. Come i tuoi figli o Maria, ti promettiamo costante fedeltà. Fa che non veniamo meno alla nostra promessa e non ci allontaniamo dal tuo vesillo. La tua lode sia sempre sulle nostre labbra. Il tuo amore nei nostri cuori. La tua arma, il Santo Rosario, nelle nostre mani. Possiamo combattere fino alla fine il buon combattimento. E la corona, che sulla terra stringiamo come pegno di vittoria, circondi la nostra fronte in cielo per tutta l'eternità. Amen. Sono tutto tuo, Maria. Sono tutto tuo, Maria. E tutto ciò che ho è tuo. E tutto ciò che ho è tuo. Sì, tu, mia guida in tutto. Sì, tu, mia guida in tutto. Sono tutto tuo, Gesù. Sono tutto tuo, Gesù. E tutto ciò che ho è tuo. E tutto ciò che ho è tuo. Sì, tu, il mio maestro, il mio sostegno in tutto. Sì tu il mio maestro e il mio sostegno in tutto Ti saluto o mia regina tutto il mondo a te s'inchina Tutto il mondo illuminaste con il frutto che portaste Ti saluto regina mia ti saluto con l'Ave o Maria Ave o Maria piena di grazie Signore è con te Tu sei perdita fra le donne e vedete il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Mater dolorosa ora a pronobis Mater dolorosa ora a pronobis Mater dolorosa ora a pronobis O Maria madre dei dolori prega per noi il tuo Gesù Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Io vorrei tanto parlare con te di quel figlio che amavi Io vorrei tanto sapere da te quello che pensavi Quando hai capito che non saresti più stata tua E questo figlio che non aspettavi non era per te Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Io vorrei tanto sapere da te se quando era bambino Tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di lui E quante volte anche tu ti nascosto cantevi Madre Quando hai capito che presto l'avrebbero ucciso per noi Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi Io benedico il coraggio di vivere sola con lui Ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi Per ogni figlio dell'uomo che muore ti prego così Ave Maria 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 Grazie a tutti.